Buonasera dalla redazione di Flores Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove c'è ancora un chilometro di coda per un incidente tra Chesiono Zanese e Montecatini in direzione Firenze. Spostandoci sulla FIPP lì, code per lavori tra Firenze e Firenze Scandici in direzione Livorno. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano Nord e Impruneta in direzione Firenze. Si ricorda che la statale 64 Porrettana è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni per una frana tra Pavana e Ponte della Venturina. Per la viabilità cittadina Firenze in via Senese all'altezza dei civici 93 e 95, restringimento di carreggiata fino all'8 giugno con divieto di transito ai veicoli con larghezza superiore a 1,80 m. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!